Nuovo tutorial bomba sul dropshipping tramite uno dei siti più sicuri ed affidabili per quanto riguarda il business di dropshipping a livello globale. In questo video andrò a spiegarti esattamente come devi sfruttare Mr. Drop per impostare un business di dropshipping su Shopify di successo. E soprattutto ricordatevi di iscrivervi al canale proprio in questo momento e attivare la campanellina delle notifiche per ricevere gli aggiornamenti futuri dei miei prossimi video. Gladiatori benvenuti in un nuovo video, Stefano Montana qui per voi oggi con un nuovo tutorial su Shopify. Ti do il benvenuto al video di presentazione di Mr. Drop ovvero il video con il quale sto collaborando ufficialmente con Mr. Drop e grazie al quale andremo a vedere insieme tutte le caratteristiche vincenti di questo nuovissimo business che va ad unire i dropshipper con i fornitori cinesi e a spedire per voi i prodotti in dropshipping direttamente al consumatore, ovvero al vostro cliente finale. Quindi prima di tutto trovate il link in descrizione di Mr. Drop con il quale potete ricevere grazie alla mia collaborazione con un bonus e benvenuto ai 10€ da poter usufruire gratuitamente questi 10€ all'interno della piattaforma Mr. Drop quindi per comprare successivamente i prodotti che andrete a vendere. Ok? Ovviamente in dropshipping una volta che i vostri clienti avranno comprato sul vostro negozio Shopify ovviamente la prima cosa da fare è collegare il vostro negozio Shopify all'interno di Mr. Drop trovate direttamente il bottone, il pulsante per collegare il vostro negozio Shopify a Mr. Drop quindi la prima cosa che dovete fare in assoluto, vedete qua tutta la dashboard, i prodotti adesso andremo a spiegare esattamente uno per uno come funziona Mr. Drop all'interno ovviamente le caratteristiche principali di Mr. Drop sono prima di tutto l'affidabilità ricordo ragazzi che sono un'azienda italiana, ok? Mr. Drop si trova esattamente a Milano vedete qua il numero di partita IVA, codice fiscale eccetera eccetera quindi sono molto molto affidabili, va bene? in quanto tutta la struttura aziendale principale è proprio fondata e si trova in Italia, ok? quindi potete tranquillamente contattarli, c'è un supporto in italiano, garantisce consegni più veloci rispetto ad All'Espresso o magari ad altri siti più un po' più antiquati, c'è la possibilità di un virtual warehouse europeo a Milano come abbiamo detto in precedenza, anche adesso in Russia hanno aperto da poco si possono contattare tramite email o direttamente dal sito Mr. Drop tramite chat oppure Whatsapp, ok? tramite questo numero altra cosa importante è che più di 5.000 prodotti sono già presenti nel catalogo e oltre 1.000 prodotti vengono aggiunti ogni singolo mese, ok? quindi sul catalogo se voi avete in mente dei prodotti andatelo a cercare direttamente adesso vi faccio vedere come nella lista prodotti ma ricordatevi che ogni mese vengono aggiunti nuovi prodotti, ok? molto importante questo da capire in quanto Mr. Drop fondamentale è una piattaforma completamente gratuita non sono previsti i piani di pagamento quindi potete registrarvi gratuitamente a Mr. Drop anzi, come abbiamo detto in precedenza, vi regalano anche 10€ di benvenuto con il link che trovate qui sotto in descrizione e se al catalogo non è presente un prodotto che sta cercando puoi tranquillamente richiederlo tramite il servizio ricerca prodotti gratuito quindi mettete in contatto con loro e loro vi ricercano il prodotto per voi che magari non riuscite a trovare nel catalogo loro ve lo trovano, ok? quindi molto molto efficiente come servizio ragazzi efficiente, affidabile e sicuro e altra cosa fondamentale è il servizio di campionatura ovvero se voi volete ricevere un campione del prodotto per testarlo vedere un po' com'è basta che gli iscrivete e loro ti invieranno un campione quindi molto molto utile soprattutto se state iniziando e volete provare il prodotto prima di venderlo e tornando sul nostro sito Mr. Drop troviamo tutte le voci prima di tutto colleghiamo il nostro store Shopify e successivamente andremo a cercare i prodotti abbiamo detto i prodotti sulla voce prodotti troviamo il nostro prodotto per esempio questo l'ho trovato velocemente per farvi un esempio di prodotto luce led ad anello per selfie 12 watt ok? questo è un tipico esempio del prodotto come lo trovate su Mr. Drop e lo potete semplicemente importare con il pulsante qua invia prodotto su store quindi tutto in italiano ragazzi non vi potete sbagliare qui avete il prezzo del prodotto il paese di destinazione, le caratteristiche, il peso, tutto quanto e ovviamente il prezzo anche di ispezione con la ispezione standard ok? quindi ogni prodotto comunque ha i suoi tempi di ispezione il suo costo quindi se voi avete già un prodotto in mente andate a cercare su Mr. Drop e troverete esattamente quanto costa quel prodotto quanto ci mette ogni prodotto ha comunque dei tempi e costi differenti ok? poi ovviamente ci sono altri servizi in più che vi fornisce Mr. Drop la descrizione che potete utilizzare è già fatta da Mr. Drop vedete qua alcune immagini professionali che potete utilizzare direttamente queste sono completamente libere da copyright in quanto mette a disposizione Mr. Drop anche qui le varianti perfetto direi che non manca nulla quindi potete già importare direttamente con due click il vostro prodotto in drop shipping sul vostro negozio Shopify ok? altra cosa fondamentale ovviamente la voce ordini ok? quando riceverete gli ordini sul vostro negozio Shopify in drop shipping quindi voi non comprate i prodotti precedentemente ma solo quando riceverete gli ordini e quindi i soldi i pagamenti dai vostri clienti sul vostro negozio Shopify a quel punto andrete su ordini e qui ci sarà la lista dei vostri ordini potrete selezionare gli ordini completato, cancellato, rimborsato comunque filtrare gli ordini in base alle vostre esigenze ovviamente da qui potrete con un click ordinare direttamente sul sito Mr. Drop e loro con un click invieranno il prodotto al vostro cliente finale quindi drop shipping al 100% Mr. Drop si occupa proprio di fare da tramite tra voi e il cliente finale i clienti finali quindi servizio assolutamente al top ok? ora come si fa a pagare Mr. Drop è molto semplice ragazzi come abbiamo visto in precedenza che vi regalano 10 euro per iniziare Mr. Drop mette a disposizione un wallet virtuale grazie al quale voi potete semplicemente ricaricare il wallet quindi il portafoglio all'interno di Mr. Drop e con il quale potrete pagare gli ordini ok? quindi una volta che ricevete un ordine su Mr. Drop da Shopify poi che è connesso a Mr. Drop su Mr. Drop andrete a pagare quel ordine ok? quindi mettiamo caso che vi costa la lampada 10 euro con la spedizione 15 voi pagherete 15 euro e vi scaleranno ovviamente dai fondi del vostro portafoglio vi scaleranno qui 15 euro molto semplice ricaricate tramite Paypal, carta di credito, bitcoin quindi non vi potete sbagliare quindi ricaricate e state a posto va bene? potete ricaricare differenti importi 50, 100, 250, 500 in base ovviamente agli ordini che avete se voi avete tanti ordini dovete comunque inviare e spedire velocemente vi consiglio di ricaricare subito un bel po' anche se in verità è molto rapido ok? ricaricate con due click ricaricate il vostro wallet e potete andare tranquillamente avanti con il vostro business i drop shipping ok? quindi l'unica cosa che devi fare adesso ti iscrivi a Mr. Drop con il link che trovi qui sotto questo video ti iscrivi gratuitamente non devi pagare assolutamente nulla anzi ti verrà accreditato sul tuo wallet ti verrà una credita di 10 euro per iniziare con il tuo business di drop shipping grazie a Mr. Drop e soprattutto se ancora non l'hai fatto ti iscrivi al canale proprio qui sotto a questo video e metti un bel mi piace per aiutare l'algoritmo YouTube se hai qualsiasi tipo di domanda a Mr. Drop al drop shipping o in generale al business online tramite l'e-commerce me la fai qui sotto nella sezione commenti e io personalmente andrò a risponderti a qualsiasi tipo di domanda quindi non perdere più altro tempo vai qui sotto commenta clicca sul link e ci vediamo al prossimo video